jump jump attack bitch devi premere No Tutto le genere salva a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video completamente dimenticato di di salutare salutare si di fare l'introduzione e niente iniziamo questo capitolo di si chiama sotto le ceneri siamo su r2 nome molto Niente Penso che ci divertiremo Sotto le ceneri in cui crolliamo bene si è passato una settimana dall'ultimo gameplay quindi mi devo ricordare le due r2 che serve no inizia a correre salta fatti su destino ok steam nato stile si o la canste io come al solito arrivo venti minuti dopo siamo stati a rothaus al pranzo a mangiare le costine so che non mi interessa però è la bella elettrificato si e volevo provare sembra giusto eh si arriva tira mi che arrivo prima attenzione questo non è una cosa buona va tutto per il cuoco qua si corre una fascia 1 2 attenzione debbbero in passa per aghiero ehm vai ehm ehm mazzelos vuoi staccarti staccati mazzelos mi lancio devo lanciare lì allora sali sul coso ok vai 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 eh si è stata un po' di incomprensione eh stavo per cercare il salto sono arrivato al pelissimo attenzione al fuoco al fumo nero della morte non erro della morte non è mai il bello seus no ho sbagliato il salto pensavo doveva andare giù invece no ah no 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 sbagliato di no e però mazzelos per guardare te e non mi devi guardare ognuno si guarda i facciani fattacci propri è un po' di sasperz adesso ma proviamo anche in questo episodio a pagare il gioco ho detto che ci riuscire però si sa no vieni 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 e se tu mi tagli il coso quando sto sotto un attimo ok vieni 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 E vorrei dire adesso La qualità di Marzaeus Marzaeus vuol dire qualità Guarda come si faceva con il re? Quello quadrato Ci appendi tu Tirati Mi devo ricordare i pulsanti Si ricorda i pulsanti Stia fermo la Marzaeus Si aggrappi Si aggrappi al biolo Si no perché sono sceso Tu sai che fai? Io niente ho fatto Vi hai tirato In realtà chi ha questo biolo? Ah ecco perché hai fatto i nodi E quindi Ecco prova a usare Eh eh vai vai Wow Che liscio Si tiri si tiri Un attimo qua Il tiraggio è limitato Diciamo Non ci incischi Vai Ma è così vicino? Proprio attaccato Ma noi siamo dei fenomeni Ancora? O non le morde O non le morde Mi sono attaccato Merda non mi ricordo Tirati Tirati Ma io dove sono Sono rimasto Scusate Vadi 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 No Tirati Con me Signore Non mi fa saltare Non mi faceva saltare Per una volta che io sopravvivo A te Allora Mi stai tirando Ti doveva aggrappare Eh non riusciva a staccarmi Oh per una volta che muoio io Non ho capito E che tiro moscio Ti tiro io E nel frattempo Oscar ha installato Job Simulator Io lo devo fare provare a Nicola Vai E gol Preparatevi per la serie Con il 10 Cioè serie Ti porterò dei giochi in voir Eh io potrò L'ho preso In faccia In faccia Niente Non ci incischi Maceus Non ci incischi Niente Eh io vado Sincro Vai Ok Qualità Cioè quando dici Sincro Vuol dire qualità Qua mi sai che dobbiamo correre No quando dico sincro Significa sì L'immagine Va bene Boom I piedi Ma hai detti A I A Pronto per oscillare Troppo Troppo Curio E niente Le gira volte Qua Yurikeki levati proprio Non so Yurikeki c'ha due spalle Che queste qua non ce l'hanno Le spalle No Sai che fai Rischi la vita Dai Faccia Dai Dovi girare Dall'altra parte E salivi Così Fai 1-2 E poi sali lì Tiro Quasi tiro Mamma mia Uno sopra e uno sotto Sì Mi è arrivato in faccia Quello che hai fatto cadere Tu e sono caduto Vai prima tu Io sei sotto Io vado sopra Vai Questo stavolta Non mi faccia niente Eh vabbè Io che le sommo Al buio Vero 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 Salta Troppo No No Salta Troppo Io troppo Tu a posto Sì Dobbiamo camminarlo Sennò Ok Ok Non era molto ok Relativamente appunto Sono bruciacchiato Un po' Le piante dei piedi Vuoi che sia Cosa vuoi che sia Dentro Dai Non mi ha sfiorato Eh vabbè Ma c'hai le corna Tu col personaggio No Nicola Non c'ha le corna Ragazzi Ma Ma Scusami C'è cosa All'entrano Dobbiamo tirare Via Non salto Pronto Vai Ok 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 No Devi proprio saltare Dai Prendi il tronco Prendi Questo cadere di nuovo Sicuramente No No Non me lo prendo in testa Quello No Secondo me è scritto Fatissimo Una cosa dovevi fare Aspettare Ho capito come fare Sì 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 Niente Di nuovo No 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 Aspetta Amico Stavo lasciando un po' di spazio per l'atterrattico No 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 Qua era Santa Che Aspetta Più o meno Eh circa Vai a legare quello Minca Caffurto Dall'altra parte No No Secondo me Devi rimanere là E tirare No Esatto Qua devo andare Io Tu Vado Sì no c'è Vaurissi Ah Triangolo Ah Devo tenere premuto Sì Ora Ci dobbiamo mollare Ah sì ho capito Perché se no Non ci arrivo Troppo 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 È un attimo Casimo Quello si lascia andare Detto a forza C'è io Con la calma Dio Ma che cos'è Noo E mi è tirato E mi è tirato Non ce l'ho fatta Ad andare Era l'unico Mi è tirato indietro E mi stavo Stavo salendo Vai Ma Ho capito Ci riprovo Non ti preoccupare Vai Vai Avanti Non ce l'ho fatta E mi è tirato Oh tira dall'altra parte Anzi ce l'ho detto E dammi la mia lana Ho fregato Ciao Che brutta persona Vuole fare le congiunture astrali Vedi che succede Ho preso il pallo pieno Ma perché è così basso Mi piace rischiare Mamma che pelo Marzeus Tanto siamo attacati dallo stesso filo Avere la vita appesa nel filo Può essere un filo Bravo Sicuramente a quello questa cosa Nooo Non avevo visto la cosa Nooo Mi ha bruciato il salto No lei non deve cercare Marzeus No è vero No è vero Ah che romano Mi ha spettato Ho saltato troppo Ah ma mia la qualità La scioltezza Eh Bravo Un po' meno scioltezza Salta Eh madonna Che cosa ho evitato qui Non vedo Non vedo Non vedo Il palo Non vedo Non riesco a salire Sali e sposta la corsa Non riesco Ok Posso? Ma sti bambini hanno fatto più danno che altro Ah Hanno solo incendiato una foresta In base di una fabbrica Cosa vuoi che sia vero? Eh lei rimane là Eh Pensavo fosse scriptato Tanto ti recupero Se hai salto Io non mi vedo Niente Chiudersi in un posto Non è una buona idea Questo È uno scabuzzino Con un incendio Oh già finito Tutto qua Molto easy Ci avremmo messo mezz'ora in più del limite Per prendere Ci avremmo messo mezz'ora in più Se fossimo stati in kingdom cam Ci piace tanto quel giorno Beh ragazzi Stiamo tornando al faro Per oggi è tutto Ci vediamo al prossimo episodio ragazzi Il prossimo episodio sarà l'ultimo di questa serie L'ultimo livello L'ultimo livello Poi noi ci faremo le sfide bonus Probabilmente se abbiamo voglia Voi non lo saprete mai Abbiamo già iniziato Non avete visto delle granficate Che abbiamo fatto Però fa niente Anche perché Era una sfide da 5 minuti Ci abbiamo messo 50 Però Abbiamo preso anche l'argento 19 minuti Oh altri 7 più veloci Ce ne saremmo riusciti Fare loro Beh Alla prossima ragazzi Ricorda Battere le mani Schiocca le dita Seguimi a Zeus Tutta la vita